può scaricare questa applicazione che si chiama tabla è una giornata in medico ritorno fai apri vediamo come funziona io non la so suonare però vedo che possiamo registrare stasera penso che cosa fa una registrazione ma proviamo a sentire la registrazione abbiamo creato ci si può divertire a fare le creazioni e poi per poi rispottare per chi lo sa usare io non so capace sinceramente io non sono capace vedi si può andare a gire con ciò che abbiamo registrato prima bella e poi qua si chiama tabla sì 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 sì